per bizzarone procedi sempre diritto va bene sempre dritto la bella fatiga sempre dritto non è che? non è che? non ho capito ma che te metto un po' di pasta e fatigas dal mondo scusi ma non esiste una scorciatoia per bizzarone? si si come no prenda vada su di lì vada su di là se questa qui è una scorciatoia per bizzarone io sono una banana però non so voi ma io ho sempre amato la sviscera c'è proprio un amore sviscerato per la sviscera e per il contenuto della sviscera salve piacere Roberto Busseghi piacere anche lei è qui per esatto si no perchè le dirò eh io sono qui con un solo scopo hai di hai di il tuo nido è sui monti hai di hai di eri triste la porta a mangiare adesso venga venga basta tratta da mangiare guarda mi trovi sempre in prima fila si cammina sempre a piedino di lei? assolutamente si ah va beh chiedevo per un amico eh ma va come sono organizzati che in casa mangiate va il menù le cose vada signorina venite accomodatevi prego prego sono anche simpatici benvenuto ti ho portato mamma ti ho portato ti ho portato ti ho portato guarda marcava bizzarrone io non so cosa dire ti sembra bizzarrone questo qua a me non piace essere un gosso sono sempre stato tipo discreto ecco è 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